Buongiorno e benvenuti da ItalianCakes. Il video di oggi mostra come colorare la panna montata. Solitamente la colorazione della panna montata serve per realizzare decorazioni con sac à poche e beccucci. E a questo proposito dobbiamo precisare che la panna fresca non è indicata alla decorazione e che la panna vegetale è decisamente una scelta migliore. Se si vuole realizzare una torta con panna fresca, la si può usare per la farcitura e la spianatura della torta, per poi utilizzare la panna vegetale per le decorazioni. In questo video abbiamo messo a confronto tre tipi di colorante che possiamo trovare in commercio, il colorante in polvere, il colorante liquido e il colorante in gel concentrato. Quindi prima abbiamo montato la panna e l'abbiamo poi suddivisa in questi tre contenitori. Il colorante in polvere, se viene mischiato la panna in polvere, può creare degli inconvenienti, quindi tendiamo a sconsigliarlo. La panna montata si mischia con un cucchiaio con questi movimenti circolari, non con il frullatore, per non smontare la panna. E mischiando il colorante in polvere, noteremo sempre queste striature, che nonostante il nostro continuo mischiare, si presenteranno sempre. Quindi tendiamo a sconsigliare l'utilizzo del colorante in polvere, così come viene fornito. Ma comunque aggiungere dell'acqua e portarlo in forma liquida. Vediamo dopo un po' si riformeranno questi puntini, se lo utilizziamo appunto in polvere. Colorante liquido è un ottimo colorante, in quanto si incorpora molto bene nella panna. viene venduto comunemente nella grande distribuzione, quindi ai supermercati. L'unico inconveniente è che il costo è un po' elevato. Viene venduto in piccole quantità. Per colorare la panna serve un po' di colorante liquido e quindi per grandi quantità di panna, per torte abbastanza grandi, quindi alla fine il costo è un po' elevato. Infine il colorante in gel concentrato viene applicato in piccolissime quantità, come vedete con uno stuzzicadente. Ha un'ottima resa, anche se il costo iniziale di una confezione può essere sicuramente più elevato rispetto al colorante in polvere e liquido, però alla lunga è molto molto più economico. Mischiamo sempre con un cucchiaio. Ecco, con la panna dobbiamo un po' dimenticare le colorazioni forti della pasta di zucchero. I colori sono tenui, perché la panna, nonostante mettiamo colore su colore, comunque ci mantiene dei colori molto chiari. In più, se noi vogliamo ottenere delle tonalità forti, avremo due inconvenienti. Aggiungendo, dovendo aggiungere molto colorante, la panna cambierà il sapore e con alcuni coloranti diventerà amara e poi la lingua di chi mangia la torta avrà appunto il colore con cui abbiamo colorato la panna montata. Quindi tendiamo a sconsigliarla in tonalità molto decise. Può capitare talvolta di acquistare del colorante in gel concentrato che sia particolarmente duro. Basta aggiungere un pochino d'acqua, proprio un goccio come potete vedere, e mischiare sempre con il solito stuzzicadente. Mischiamo bene, affinché si sciolga e si ammorbidisca. Dopodichè possiamo aggiungere il colorante concentrato alla panna montata. E mischiare, come al solito, con un cucchiaio con un movimento circolare, non troppo velocemente, per non smontare la panna. E avremo comunque un buon risultato. Di seguito vi mostriamo delle immagini di alcune torte decorate con panna vegetale, colorata con colorante liquido e in gel concentrato. Buona visione e arrivederci da ItalianCakes. Buona visione e vediamo la prossima. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.